si volevi andare sulla parte del boost no? si volevo provare con te giusto appena l'effetto drive more drive provala qua l'effetto drive more drive o solo l'effetto boost con la selezione in base a come si mette questo allora come mai non è distorto ah ok perché siamo spenti di qua ok siamo spenti capito come funziona lì quindi questo è col gain del della parte distorsione ora ho il selettore messo su off quindi l'ho attivo solo in corrispondenza di questo e mi dà la botta di gain in base a come ho impostato il pre ora l'ho messo gain al massimo e pre al massimo quindisiale ok mi sembra che funzioni ora c'è l'altra l'altra possibilità che è quello di lasciare quindi spengo questo metto il pre sempre attivo quindi ora abbiamo il livello di gain come quando era acceso a questo punto ora abbiamo il boost mettendolo ad esempio a poco più di zero perché questo è 15db quindi spara abbastanza certo ok 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 Vorrei abbassare... Sempre il gain, arriviamo a metà. Invece prova a scendere giù di pre, lasciando il gain così. Perché invece il volume di uscita... Allora, il volume con l'abbassare del gain un po' scende, va corretto. Non lo volevo sapere come stava regolato? Ah, il volume? Dritti? A metà? A metà, ok. Non l'abbiamo mai modificato da ora. No, questo è rimasto sempre... Abbiamo sempre lavorato di ingresso, diciamo, mai di uscita. Diciamo che il volume a metà è un po' rispetto al suono pulito. Quindi a metà... Sì, però mi piace, è molto lineare. Cioè, non ha fatto lo scalino. Nonostante siamo di pre alti ancora, vero hai detto? Sì, qui siamo al massimo. Ok. Si scende a metà di pre? Sì. Ok. Vai, diciamo che siamo così. Grazie a tutti. Sì, va bene. Sentiamo anche silice. La mano aiuta. Bene.